Questa è una poesia del Pasquino che ci è piaciuta particolarmente e si attaglia proprio alla denuncia che abbiamo fatto stamattina e di cui adesso Orazio ci parlerà proprio qui. No, vai, ecco qua, la denuncia è qui. Allora, in questi giorni in particolare dall'altro IEI gira in rete e non solo in rete perché questa notizia finalmente l'hanno pubblicata anche il foglio quotidiano e il giornale, e cioè che il signor Matteo Renzi in proposito, in merito a quella denuncia, per quanto riguarda la sua colpevolezza o meno rispetto a quella usurpativa azione di insediamento che aveva fatto di quattro consulenti presso la provincia di Firenze quando lui era il governatore della provincia o presidente della provincia, come lo si voglia chiamare, è il risultato che doveva dare al demanio 2 milioni di Euro di risarcimento più 15 mila Euro di multa. Allora, finalmente il 6 febbraio di quest'anno è uscita la sentenza d'appello a cui lui aveva fatto ricorso e che dall'altro ieri è di dominio pubblico e la quale sentenza dice questo, adesso la leggo così si capisce, la sentenza dice, Matteo Renzi assunse 4 funzionali senza titolo alla provincia di Firenze ma è stato assolto, le motivazioni, non è un addetto a lavori, non poteva capire. Allora, arrivano le motivazioni della sentenza della Corte dei Conti che ha assolto in appello Matteo Renzi precedentemente condannato a pagare 14 mila Euro per le presunte assunzioni illegittime quando era presidente della provincia di Firenze e con esse arriva anche qualche imbarazzo di troppo per il Premier che si era subito detto sollevato della decisione, la verità viene finalmente ristabilita, aveva cuonato su Twitter. Secondo quando invece spiegano i cinque giudici della Corte dei Conti, Renzi è stato assolto perché il collegio ritiene di poter rilevare l'assenza dell'elemento psicologico sufficiente e incardinare la responsabilità amministrativa in un procedimento amministrativo assistito da garanzie ai cui eventuali vizi appaiono di difficile percezione da parte di un non addetto ai lavori. In pratica, in quanto non addetto ai lavori non sarebbe stato in grado di percepire l'illegittimità del suo operato che quindi rimane illegittimo, quindi non è che non è colpevole, semplicemente non è condannabile che è diverso. Io, ad esempio, vado a inchiappettare una parente di Renzi e non sapevo che era un atto immorale. Se ci presentasse la sua sorella o qualche parente, la moglie, ad esempio, la moglie. Andiamo avanti. Secondo il procuratore contabile, aveva inquadrato nel suo staffo quattro persone esterne, Renzi, all'amministrazione come funzionari. E' quello che sta facendo giornalmente tutti i giorni? A livello nazionale. Una qualifica, questa, che richiede una laurea, ma i quattro non la possedevano. Ma lui sa che cosa vuol dire avere una laurea? A dare il via alle indagini una denuncia anonima dell'assunzione di Marco Carrai, assunto nella segretaria del Presidente, nonostante fosse privo del titolo necessario. E così per un quinquennio. No, lasciamo andare oltre. Allora, la cosa importante in tutto questo è che nella sentenza i giudici dicono, appunto, il Collegio ritiene di poter rilevare l'assenza di elemento psicologico sufficiente in cardinale responsabilità amministrativa, in quanto in un procedimento amministrativo assistito alla garanzia in cui eventuali vissi appaiono in difficili percezioni da parte di non addetto a lavori. In pratica, in quanto non addetto a lavori, non sarebbe stato in grado di percepire l'illegittimità del suo operato. Allora, vediamo che cosa dice la legge in merito. Certamente. Allora, va chiarito che l'incapacità civile è la condizione giuridica di chi, a causa di determinate alterazioni psicofisiche, infermità di mente, prodigalità, sottomutismo, eccetera, è dichiarato con sentenza di giudice civile totalmente o parzialmente incapace di intendere ai propri interessi. Immaginiamoci quando gli interessi sono pubblici, di tutti i cittadini oltretutto, e lui si arroga, essendo un idiota primordiale, capito? E si arroga il diritto di rappresentare i nostri concittadini non sapendo esattamente, l'hanno detto loro, io non è che dico niente, io ho sempre capito che lui era un idiota, era un idiota atrabiliare. Allora, dunque, la situazione di incapacità di intendere e di volere si assume attraverso una procedura di comportamento. Esattamente. Un ricopro coatto, in una casa famiglia. La definizione di capacità di intendere legalmente è l'attitudine dell'individuo a comprendere il significato delle proprie azioni nel contesto in cui agisce, quindi rendersi conto del valore sociale dell'atto che si giontide. Esattamente. Allora. Allora, lasciamo stare le considerazioni più approfondite che vedremo nel momento in cui saremo in possesso della sentenza nel testo completo. Ma la cosa importante da dire è che esiste quindi l'incapacità assoluta, come abbiamo detto, che comprende, fra gli altri, gli interdetti giudiziali che si trovano in condizioni di infermietà mentale. Tutti questi soggetti non possono compiere alcun atto giuridico né di ordinaria amministrazione né di straordinaria amministrazione, serve perciò un tutore. E quindi non possono essere cosiddetti eletti? E non possono rappresentare un popolo. E due, l'incapacità relativa che racchiude in sé anche coloro che sono affetti da disturbi mentali non gravi. In particolare questi possono compiere atti di ordinaria amministrazione, acquisti di vario genere, per esempio, ma non atti di straordinaria amministrazione. Testamento, per esempio. In quest'ultimo caso, infatti, ci devono essere assistiti dal curatore. Allora, è da notare però che la cortovolizza e l'incutabilità sono concetti coincidenti ma non uguali. Per colporevolezza, infatti, si intende l'atteggiamento doloso o quaposo dell'agente, mentre l'imputabilità è la capacità o meno di intendere e di volere. Allora, dobbiamo però avvertire che il concetto di colporevolezza identifica nell'ambito della concezione di ripartita del reato la colporevolezza come rimproverabilità del fatto al suo autore. In questa ottica l'imputabilità stabilisce il presupposto proprio di questa rimproverabilità, poiché non è rimproverabile chi non è anche impotabile, cioè incapace. Certamente. Allora, in ogni caso, il fondamento dell'esclusione della responsabilità si trova nella mancanza di colpevolezza dell'incapace, ma nella esigenza di tutelarlo perché non è in grado di comprendere la rilevanza sociale negativa degli atti che compie. È naturale. Allora, questo è stato acchiappato con sorcio in bocca. Certo. Gli hanno detto ufficialmente, cinque giudici della Corte dei Cotti, gli hanno detto tu sei incapace di intendere e di volere perché non ti rendevi conto del danno che facevi all'erario. Gli devi mettere la camicia di forza e ricoverarla in una casa famiglia. Allora, ripeto, per incapacità di intendere e di volere. Si intende quindi l'inidoneità psichica della persona che non è in grado di comprendere la rilevanza sociale negativa e cogliere la carica di disvalore della propria condotta degli atti che compie. Esattamente. Quello esattamente che in altre parole hanno definito nella sentenza i giudici della Corte dei Cotti. Mentre lui va in giro a fare le sue recite, si avvicinano alcune persone vestite di bianco con una cuffia bianca in testa, gli mettono la camicia di forza e lo portano tranquillamente dove dovrebbe stare da molto tempo lui e i suoi mentori a cominciare dall'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Allora, ripeto, anche per andare leggermente un po' più a fondo. Quindi la capacità di intendere di volere richiesta dall'articolo 85 del Codice Penale è definita idoneità del soggetto a conoscere, comprendere e discernere i motivi della propria condotta valutandone le conseguenze. È attitudine a determinarsi in modo autonomo, scegliendo la condotta adatta al motivo che appare più ragionevole. Dunque intendere come idoneità del soggetto a rendersi conto del valore delle proprie azioni, ma anche rappresentarsi della realtà in cui si muove così come essa è senza distorsioni. Mentre qui abbiamo un concetto, una persona che si rappresenta la realtà in maniera del tutto astratta e con tutte le conseguenze ovviamente del caso. E va, vai ricoverare. Andiamo a oltre. Una casa famiglia. Allora, dovrebbe essere chiaro a tutti che un Presidente del Consiglio dei Ministri, affetto e afflitto da problemi personali che gli impediscono di intendere di volere e percepire pienamente le conseguenze negative derivanti dalla sua decisione d'atti, come è stato più ampiamente dimostrato in tutte le sue varie leggerazioni, sono latente ed onnipresente causa di natura pregiudizievole alla corretta gestione della sua attività esecutiva, è un enorme e insormontabile impedimento permanente, motivo per cui addirittura nella stessa Costituzione si è prevista la possibilità che questo evento si verifichi e la modalità, la decadenza per ovviare al problema. Esattamente. Quindi il signor Matteo Renzi deve essere dichiarato immediatamente decaduto a seguito di questa sentenza. Ma decaduto e ricoverato subito. Al Forlanini come minimo, dove gli fanno un'iniezione di merda, lo curano con un'iniezione di merda, dopodiché stiamo a posto, va bene? Sì, sì, sì. Questo è Pasquino, Pasquino, il popolano che ha detto la verità.